Un momento molto importante per Ferrara, usciamo perlomeno in parte dell'emergenza Covid e torna alla cultura. La cultura in due aspetti diversi, oggi appunto inaugura la mostra di Banksy, molto attesa tra l'altro già da diverse settimane, lunedì prossimo invece protagonista Palazzo Schifanoia. Che cosa ha comune queste due mostre? Beh, hanno in comune quello che in realtà contraddistingue gli artisti, in fondo gli artisti si preoccupano poco della propria rispettabilità. Mi dicono che Banksy a 25 anni fosse anche un teppista, ma questo me lo rende più simpatico. Parlano le opere per gli artisti e quindi c'è un salto temporale enorme tra il rinascimento di Schifanoia e Banksy, ma è apparente perché penso agli outsider come Modigliani, Van Gogh, addirittura se vogliamo tornare al Cinquecento possiamo parlare di Cellini. Prendeva il metallo e lo rendeva opere d'arte per papi e re. Quindi parlano le opere. Io non voglio entrare nel giudizio di un artista, penso che questa sia un'occasione importante e quindi c'è una coniugazione molto vicina e anche non casuale tra Palazzo Schifanoia e le mostre di Palazzo dei Diamanti. Si riaprono le mostre, ovviamente bisogna rispettare le normative vigenti. Come la gente potrà visitare appunto questa esposizione? Allora, la declinazione dei DPCM è molto pesante, molto anche penalizzante soprattutto per le guide turistiche. Io credo che possa trattarsi di una situazione temporanea e che quindi con il miglioramento e con l'acquisto anche della sicurezza generale, con la scomparsa o quasi, insomma, dell'epidemia e quindi del Covid-19, questo possa permettere un allargamento. Oggi le persone possono entrare in gruppi. Abbiamo ovviamente ogni ambito museale ha delle situazioni diverse. Quello che le accomuna è che potranno entrare, per esempio, nei gruppi delle guide o nelle mostre guidate, quattro persone più una, per cui una persona circa al minuto, quindi tra 60-70 persone all'ora. E quindi dovranno passare attraverso comunque un controllo anche attento. Ovviamente noi confidiamo anche nella responsabilità e nella coscienza di ognuno, ma abbiamo messo a disposizione tutti gli elementi, ovviamente, e i dispositivi che il DPCM ci obbliga. Quindi mascherine, se una persona passa davanti al Palazzo dei Diamanti, ma per caso ha smarrito la mascherina, saremo in grado di fornire mascherine anche ai visitatori. E ovviamente abbiamo bisogno di tutelare coloro che la mostra la gestiscono giorno per giorno, e quindi abbiamo bisogno di tutelare coloro che la mostra la gestiscono giorno per giorno,